me la fa provare in marcia? certo signore ma cosa diavolo sta succedendo? lo sa? io la conosco lei è quell'agente segreto l'agente segreto che veniva dall'Inghilterra sta inseguendo qualcuno vero? a chi dà la caccia stavolta? comunisti? andiamo a nocciuffarli le do una mano volentieri credo ci siano complicazioni mettetevi da un lato e fate strada brutti piccoli idioti! sono un poligiotto! James! sei ancora lì! James! puoi sentirmi? James! tutto bene goodnight non aver paura chi è? è la centrale mi faccia parlare a me pronto? qui è lo sceriffo Jerry Pepper della polizia dello stato della lumisiana chiamate mia moglie all'hotel Narai e ditele che sono in missione! una missione importante giusto? giusto quale auto stiamo in seguito? on the car sul a No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dove diavolo sono andati? No, 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 no. Il ponte più vicino è a due miglia indietro. No, 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 no. No, 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 no